Libri, zaini, nuove iscrizioni, l'arrivo delle tasse. Il mese di settembre si trasforma per i cittadini in un mese di preoccupazioni e uscite economiche ingenti. La pubblica istruzione ha raggiunto costi esorbitanti. Se si pensa poi a chi ha più di un figlio, le cifre sono da capogiro. E allora, come ogni anno, i beni informati hanno una carta in più, quella del mercatino del libro usato a Pescara, istituito dagli attivisti dei giovani comunisti italiani. Si vendono i libri che non servono più e si acquistano quelli del nuovo anno. Sono già tutti in fila. I tagli alla politica dell'istruzione in questo paese ci sono sempre stati negli ultimi anni. Questa è l'unica mano che noi al momento possiamo dare e ci stiamo sentendo di darla. Comunque sta andando molto bene e siamo contenti proprio di poter aiutare le famiglie nel risparmiare qualcosa quando si tratta di istruzione, quando l'istruzione pubblica dovrebbe essere qualcosa, a nostro parere, quasi gratuito, se non gratuito. E non ci sembra giusto pagare per istruirsi. Tutto qui. E quindi cerchiamo di aiutare così. Le case editrici, che ovviamente sapendo di avere un'egemonia su quelli che sono i libri, tendono ad alzare i prezzi. Ci sono libri di matematica che arrivano tranquillamente a 40 euro, come anche libri di narrativa. 40 euro per una sola materia, per un libro che magari a volte vale anche solo un anno. Insomma, è un'esagerazione. Possiamo capire il pagare il libro, possiamo capire la stampa, possiamo capire chi ci lavora dietro. Ok, ma 40 diventa eccessivo come lo diventa un 30, ma anche un 25. E quindi per questo ne apriamo il mercatino dei libri usati. Vi spaventa? Questo è il recapito per i genitori in cerca di risparmio. Si popola di borsoni e buste cariche di libri da vendere e dal 30 agosto sarà anche possibile iniziare ad acquistarli. E per ora vediamo come sono andate le cose per i più rapidi. Appena uscita, quanti libri ha portato? Io ho portato quattro libri. Sono stati riconosciuti? Sono stati riconosciuti quattro, sì. Erano per... quelli che ho lasciato erano del primo superiore del Galilei. E invece adesso tornerà per vedere quelli del nuovo anno? Sì, 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 certo, come no. Generalmente... Nel momento non li ho trovati, quindi ritornerò. Perché ovviamente bisogna portarli e vedere se qualcuno ha quei libri che interessano. Li aveva già comprati qui? Sì, sì. E il risparmio è un risparmio che comunque può essere ingente? Eh, abbastanza, certo. Uno ci prova, insomma. Cioè, effettivamente risparmio del 40%, 40-45%. Quindi...